15 febbraio 1927, nasce a Torino Carlo Maria Martini, ordinato sacerdote nel 1953, nel 1980 viene nominato vescovo e tre anni più tardi cardinale. Biblista ed esegeta, durante il suo episcopato a Milano negli anni Ottanta, inizia la serie di incontri sulle domande della fede, chiamati anche cattedra dei non credenti, indirizzati a persone in cerca della fede. Soprannominato il cardinale del dialogo, Martini muore a Milano il 31 agosto del 2012.